In media ogni giorno usiamo il telefono per circa otto ore, a volte ancora di più. Sprechiamo moltissimo il nostro tempo davanti ai social, tempo che poi potremmo impiegare per fare altro e molto utile. Anche più importante. Noi siamo Andrea, Capi, Federico, Chico, Michael, Maiko e vi parleremo dei social media, del loro utilizzo e soprattutto delle scelte che facciamo utilizzando questi social per varie ore che portano a toglierci del tempo prezioso e come i social influenzano le nostre scelte, le nostre decisioni, soprattutto ispirati da personaggi famosi. Parleremo anche delle applicazioni più in voga al momento e daremo anche prospettiche su Twitter. Twitter in questo momento è una miniera di critiche, soprattutto penso all'altro giorno che c'è stato uno scandalo di transfobia in cui un ragazzo ha detto la sua su Hogwarts Legacy, un gioco uscito recentemente e purtroppo è stato bombardato perché la Rowling ha fatto tempo fa una fermazione contro i trans e adesso il gioco ad esempio su Twitter è molto criticato. Anche Elon Musk con i suoi licenziamenti sta alzando diverse ondate. Ci sono molto critiche, argomenti anche delicati e vengono toccati sui social. Infatti noi parleremo di come potrebbero evolversi nel tempo, nel futuro e cambiare questi contenuti e la visione delle varie persone. Esatto, un esempio che mi viene in mente è Andrew Tate che ha provato a riportare una visione dell'uomo che è stata un po' persa nella società con l'evoluzione di questo social media negli ultimi anni. Ha provato a portare questa figura che ovviamente non è vista di monocchio però è da analizzare perché ha dei punti che secondo me ad esempio sono molto importanti e altri che sono giustamente da criticare e da abbattere. Già, daremo anche prospetti tecnologici per quanto riguarda l'algoritmo che sicuramente condiziona tutte le cose che vediamo, tutti i tipi di contenuti che vediamo sui social come TikTok o anche Reel di Instagram, addirittura sono usciti simili a Reel di Instagram i YouTube Shorts molto simili, quasi uguali, che grazie all'algoritmo possono per dire targettare ciò che a una persona piace così da poterla anche fare rimanere molto più attaccata all'applicazione. Sì, no, infatti l'algoritmo penso sia una cosa molto importante perché spesso siamo intrappolati in questa rete che ci porta a perdere molto tempo, ad esempio l'ottogiorno io sono rimasto un'ora fermo a guardare TikTok sopra video di macchine di cui fondamentalmente non mi interessa. Sì, infatti l'algoritmo è una delle cose più importanti su cui anche i social puntano di più e perché puntano su far stare attaccate le persone su di esse e infatti noi parliamo anche di come si evolverà nel tempo questo e come potrà cambiare anche questo funzionamento e l'algoritmo. Ma avete mai pensato, tipo, vi doniamo un esempio, dieci anni fa, noi eravamo nei primi tempi di YouTube e era ancora un po' irrealistico pensare di andare su YouTube e cercare un tutorial, non era ancora una cosa molto comune. Invece oggi penso che non ci sia più il nonno, lo zio a cui vai e chiedi un consiglio, ma ci sia YouTube, TikTok. Non vi fa riflettere molto questa cosa? Sì, decisamente, difatti le applicazioni che utilizziamo sono anche diventate una profonda fonte di informazione che porta molto alla disinformazione. Sì, ma sono maniere molto più veloci che a noi possiamo attingere. Quindi noi siamo di Radio Sankara, noi siamo Federico, Michael e Andrea e vi parleremo di social media. Bella. Bella. Ciao Radio Sankara. Ancora una volta ciao ragazzi, siamo qua tornati da Radio Sankara. Ci siamo qua riuniti per parlare di un argomento molto interessante e molto importante per il nostro futuro. Ma iniziamo a presentare chi siamo. Siamo qua in compagnia di Federico. Sono io ragazzi, lo so. E di un vagabondo, cioè, da dove ti aveva raccattato? Per strada, in mezzo a via dei tigli. Comunque, Michael, piacere a tutti. E Andrea. E oggi parleremo di un argomento molto importante, come ho già detto, che sono i social media. Qualcosa che troviamo nella vita di tutti i giorni, di oggi e di qualunque persona. Parleremo in particolare di come potranno evolvere nel futuro, cosa potranno cambiare, cosa potrà essere evitato per far sì che il loro percorso e la loro vita continui già per molto. Già, cerchiamo di dargli una prospettiva in quanto al futuro, ma anche in quanto al passato, di come si sono evoluti. Intanto, cosa potremmo dire? Michael, spiega cos'è un social media. Vabbè, cos'è un social media? Lo sappiamo tutti che è quell'app che ci mantiene informati tutti i giorni o in qualsiasi momento su ciò che accade nel mondo. Un social media può essere un intrattenimento, come pensiamo a TikTok, YouTube, o comunque una piattaforma sul quale possiamo trovare ciò di cui abbiamo bisogno in quel momento. Basta pensare Google, comunque non è un social media, però è una cosa che possiamo utilizzare per informarci in qualsiasi istante. Sì, potremmo parlare dei contenuti dei propri social media, perché oggi sono una vera e propria fonte di informazioni, che sono una sorta di un telegiornale, che però noi abbiamo sempre sul nostro telefono, ma che ci informano di tutto ciò che succede, dalle cose più insignificanti, da quelle molto più importanti, avvenimenti politici, come cose che non te ne fregano a sé. Dicevo che sono d'accordo con lui, perché ad esempio TikTok spesso ha un algoritmo che ci pone a guardare delle cose di cui non ci interessa fondamentalmente niente, spesso magari passi 20 minuti su TikTok, 10 video sono interessanti su magari 100 che hai visto, e di questi 100 magari hai visto cani, gatti, persone che fanno cose fondamentalmente inutili e su questi 10 magari riesci anche a informarti su qualcosa. Ad esempio l'altro giorno ho visto uno scandalo inerente alla cosa di Fedez a Sanremo, che penso sia una cosa da tutti ormai saputa, il bacio con Rosa Chimica. Io non lo so. Eh vabbè. Meglio per te. Ovviamente un uomo sposato che bacia davanti a, diciamo, diretta nazionale, presumo, un uomo, cioè non è una cosa cattiva, però sposato con una donna davanti a lei, possiamo dire. Ma poi volevo pure una domanda, i social media potranno sostituire mai i tre giornali, la fonte interna? Secondo me no, perché considera questo, io tipo quando vado su TikTok o Reel di Instagram e vedo notizie su notizie, sono così rapide perché solitamente un video dura 30 secondi o anche meno di un minuto e io penso che tutte le informazioni che ho imparato in un'ora di TikTok le ho già dimenticate, specialmente i dettagli, quindi mi ricordo le cose in generale ma proprio, cioè... Sì, ma non sempre su TikTok si trovano video stupidi, divertenti, ma a volte trovi veramente persone che ci mettono loro stesse nel voler insegnare qualcosa a chi vede, come programmi di fisica, cioè alcuni professori hanno TikTok, quindi sono informazioni anche interessanti che si possano trovare. Sì, ad esempio Fisica che ci piace, è un ottimo profilo di TikTok sul quale puoi studiare fisica e un altro esempio sono comunque i fitness talk o comunque i gym talk dove comunque una persona che magari si apre al mondo della palestra può prendere spunto sul come allenarsi correttamente e sul come eseguire un esercizio in palestra senza farsi male. Cosa prendere per migliorare consigli da persone che comunque fanno questo lavoro da anni e anni? Sì, parlando anche di ciò potremmo ipotizzare quale potrà essere lo sviluppo dei social media perché ogni social media ha una propria vita come abbiamo già visto con Facebook che ha avuto il suo apice un po' di anni orzono e che ormai è quasi totalmente morto, troviamo solamente persone di una certa età che non si sono ancora evolute, non sono passate social all'attuale come possono essere Instagram e soprattutto TikTok che ci bombarda tra virgolette cose ogni giorno. Sì che poi tra l'altro su Facebook adesso c'è un fenomeno anche abbastanza inquietante se lo volete considerare così, chiamato il cimitero di Facebook, nel senso che ci sono profili. Ci sei anche te, nua tomba. Io per fortuna non ho Facebook, Capitanini Andrea, ma... Non osarti. Cos'è il cimitero di Facebook? Pratica, semplicemente tutti i profili di quelle persone che ad oggi sono defunte, che però hanno ancora il profilo su Facebook, potrebbero eliminarli, ma nessuno se ne occupa di queste cose, intanto Michael si sta impegnando in espressioni sociali. Nel lavoro più anticolo al mondo, ora parlaci te di qualcosa, secondo te come potranno provervi nel tempo? Nel tempo cambieranno i social, tipo già un esempio è Instagram che sta avendo sostituito da TikTok. Spesso, passato diciamo, Instagram aveva preso il posto di quel che era Facebook per i giovani degli anni 2000. Facebook era una piattaforma su cui postavi tutti i giorni ciò che ti accadeva, cercavi di fare il figo con gli amici, chi magari prendeva più like o comunque aveva più amici era quello figo, divertente. E ora lo è stato poi su Instagram e ora lo sta diventando un po' TikTok. Quindi, secondo me, i social saranno sempre un'evoluzione social dall'altro, cioè partendo da un social base che ha dato via a questo fenomeno, arriveremo sempre più avanti a nuove innovazioni, a nuove tipologie di social. Anche un esempio è YouTube e Twitch, che propongono più o meno lo stesso target o comunque la stessa tipologia di contenuto. Twitch per molto tempo è stato un grande rivale di YouTube, che è, penso, il posto dove tu vai a pubblicare video, cercare informazioni più grande insieme a Google. Twitch ha riuscito a sostituire questo, diciamo, campione dell'intrattenimento con la sua politica e soprattutto il guadagno che permette agli streamer di ottenere. Sì, è un guadagno molto alto, molti soldi, ma parlando anche del lato negativo, perché ormai nei social non si può dire più tanto, c'è una politica licorret che sta soffocando anche talmente la divulgazione dei contenuti, alcune cose che non sono per niente offensive e vengono bocciate e bannate, come si suol dire. Anche demonetizzate. 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 E questo sta un po' affermando la divulgazione, anche alcune persone ad approcciarsi a divulgare cose che potrebbero anche informare le altre persone. Secondo me questo politically correct, diciamo, che negli anni è stato molto valutato, riguardato, modificato, perché comunque i social spesso tendono ad essere una piattaforma aperta a tutte le generazioni, a tutte le... E invece secondo me da una parte è giusto, perché metti ad esempio YouTube, come era YouTube quando più o meno io e te avevamo 10, 7, 8 anni. Quando si era giovani. Quegli anni lì io spesso vedevo magari video in cui le prime parolacce di quando eravamo piccoli o comunque le prime parole che non possiamo proprio dire così apertamente erano la burla e lo scherzo di ogni giorno. Ora una parola del genere non... Diciamo sarebbero distrutte da tutte le politiche della piattaforma, perché comunque l'intrattenimento ora non è più per un target mirato, come lo era in passato, ma si sta ampliando per tutte le sfaccettature della società. E secondo me più avanti lo sarà ancora più ampio, in modo che sia da piccolissimi che da quando saremo molto più grandi saremo sempre attaccati a questi social. Dici che si potrà ampliare sempre più e si focusserà sempre più su un target giovanile di persone? Sì, probabilmente cercherà o di ampliare completamente, quindi da quando siamo praticamente nati, cioè un anno o due anni, quando siamo capaci di intendere e volere, fino a probabilmente quando esileremo l'ultimo respiro della nostra vita, i social probabilmente rimarranno sempre lì a farci compagnia. Sì, ma hai detto un'età che secondo me è fin troppo giovane, due o tre anni, un po' e aprì TikTok. E invece sì, non dovresti, però... Eh, lo sappiamo, però non ci dobbiamo stupire, perché ad oggi io non so te, ma vedo fin troppi bambini che a età troppo piccoli hanno in mano un telefono. Eh sì, cioè... Ti faccio un esempio, l'altro giorno ero a un bar a prendere un caffè con un mio amico e ho visto una famiglia, ho visto una famiglia con due bambini di tre e quattro anni che avevano entrambi un tablet, mentre i bambini stavano guardando i cartoni e i genitori stavano facendo i cavoli loro. No! Cioè, per dirlo proprio onestamente, i tablet hanno sostituito quello che erano magari i nostri gormiti o i nostri trenini, giocattolo. Eh no, vabbè, no vabbè, cioè non ci credo in questo che hai visto. No, comunque, quello che hai appena detto è molto importante perché si può ricollegare anche al legame che ormai, che i genitori non si occupano più dei figli, non c'è più legame tra i loro, anche i social media sono un elemento da distrazione che viene dato fin dai bambini piccoli, per distrarre i genitori evitano complicazioni. Ma nei social media si trovano sempre anche personaggi un po' strani, eh, come si suol dire, come abbiamo i pelati, come Andrew Tate. Ah, eccolo! Il tuo grande amico! Eccolo ragazzi, Andrew Tate! Allora, Andrew Tate se andate su YouTube, nei YouTube Shorts che sono la stessa cosa dei reel di Instagram perché tanto ormai ogni applicazione copia la stessa. Se andate su YouTube Shorts è pieno solo di Andrew Tate, una figura particolarmente di influenza che viene considerata a volte misogina, molte persone lo proteggono. Cosa ne penso? Ti guardo? Allora, è un discorso complesso. Piuttosto il problema è che proprio per colpa dei social media che vedo tutte informazioni da video che durano pochissimo e sono troppo istantanei, ho informazioni su Andrew Tate solo da YouTube Shorts, che non credo sia una fonte molto affidabile. Eh, quel macete! Più che altro possiamo dire che YouTube spesso i social tendono a trascurare qual è la verità dietro un personaggio. Andrew Tate ha cavalcato l'onda del suo successo per arrivare a... all'inizio mandava un messaggio che effettivamente ha senso per finire poi nel ridicolo e nel... nel commerciale come personaggio, nel senso che dopo tendeva solamente a macinare soldi su quel che era. Perché comunque all'inizio cercava di riportare un po' una figura maschile che forse nei secoli o comunque nell'ultimo periodo è andata un po' a mancare, ma il suo modo forse è un po' molto discutibile. Tu non trovi Federico? Eh, direi, specialmente perché dice delle cose che, diciamo, gli scavano un po' la fossa da solo, specialmente perché poi le persone piace ritagliare solo lo spezzone che è facile incriminarlo, tipo dicendo che se la sua ragazza dovesse rubargli un macete non farebbe molto fatica a riprenderglielo. Il problema è che hanno preso questo spezzone pari pari e adesso è molto facile metterlo in galera. Però introducendo un altro personaggio adesso nella politica anche su TikTok è stato introdotto Berlusconi. Cosa ne pensate della sua propaganda su TikTok per attirare il pubblico giovanile? Ma di politica non me ne intendo, però comunque lui si è saputo adattare. È importante comunque, è riuscito a entrare nei cuori di noi giovani. Però, sì, beh, quello non ti posso dare tutti i torti. Ti, non so, se hai sentito qualcosa a riguardo del metaverso, Elon Musk. Eh, sì. A parte che il metaverso non lo stava facendo Mark Zuckerberg. Oh, non so, qualcuno l'ha fatto. Insomma, una di queste due persone. Il metaverso, sì, è quella piattaforma che ora stanno cercando di sviluppare, che stanno cercando di rendere tutto quello che noi vediamo nella realtà attraverso computer, tecnologia. Io non so voi, cosa ne pensate? Secondo me l'idea del metaverso è ancora un attimo da valutare. Non ti convince? Diciamo di no, perché comunque toglie quel calore e quel contatto che ci sono nelle interazioni sociali fisiche. Sì, ma oggi tante persone ci stanno, ne stanno approfittando e sono entrate soprattutto quelle famose, cercano di fare qualcosa. Anche i brand più famosi aprono negozi nel metaverso, come abbiamo visto, e cercano di vendere e di spingere tramite l'online, le vendite online. Ma anche personaggi famosi come, non mi senti che l'altro giorno avessi detto... Sì, Snoop Dogg. Eh. che sono riusciti in anteprima a dargli una casa sul metaverso e addirittura una persona ha pagato non so quanti milioni di dollari per essere suo vicino. Quindi è una cosa anche un po' psicotica sotto un certo aspetto. Diciamo che secondo me è utile per quei personaggi famosi che non riescono più a avere una vita perché ormai sono anni e anni che sono nel mondo dei social o comunque nel mondo della tv, della musica e non hanno più quella persona che erano in principio. E può essere anche utile per magari quelle persone che non riescono a interagire socialmente. Entrano in questo mondo, hanno una seconda vita e riescono ad essere liberi. Comunque è una cosa da valutare. Secondo me però non sostituisce la realtà per com'è. Allora, capisco la cosa che può facilitare le persone che fanno fatica ad avere un contatto con la realtà, ma così le rirendevi ancora più distante. Sì, però ad esempio, pensa se le persone che partecipano al metaverso fossero centomila, centomilioni mettiamo, centomilioni comunque sono centomilioni di persone che sono in quel momento collegate. E se tu riesci a parlare nel metaverso rispetto magari a un giochino online o magari un gioco come code o quelle cose lì, comunque riesci a avere un'interazione sociale diversa da quello che è finora il mondo dell'online. Sì, quello sì. Poi è chiaro che se una persona ha qualche problema proprio a livello sociale, che non ce la fa parlare con delle persone, allora lì diciamo che non farebbe altro che incentivare il suo rimanere in casa e avere ancora più problemi. Ma poi pensa a quelle persone che sempre non possono muoversi, che ne so, magari l'impossibilità, che sempre rimangono in uno stato vegetativo, magari riescono a intrometterli o a inserirli in questi metaversi, in questo metaverso, e riescono comunque ad avere una vita. Cioè può essere una seconda vita, una seconda opportunità per quelle persone che magari non riescono ad avere quella vera. Certo. Però è comunque una cosa ancora da sviluppare. Secondo me si andrà verso sempre più l'online, si sta spingendo verso quella direzione, anche come aziende, come già detto prima, perché è il metodo più veloce, anche sia per razionare, contattare più persone possibili. Anche il discorso del metaverso, per me sarà così tanto spinto a diraccogliare gli anni che diventerà ormai consitudine tutti i giorni. Già, tra l'altro parlando di questo, Mark Zuckerberg, o Zuckerberg come lo potete pronunciarlo, non sta facendo altro che comprare ogni applicazione famosa. Adesso ha comprato Whatsapp, a Facebook, a Instagram. Sì, meta, compra tutto. Secondo te andrà a buon fine questa cosa? Cioè avere un unico padrone per tutti i social media sarà una cosa giusta? Non so, è un po' una tirannide online. Secondo me no. E ti interrompo e ti dico perché no? Perché c'è già stato un problema, riguardo a questa cosa, quando i server di Zuckerberg non andavano tanto bene, e Instagram e Whatsapp per un giorno sono stati disabilitati. Cioè se un hacker entra in un sistema del genere, che è improbabile perché è comunque un sistema controllato tantissimo, ci sono sicurezze, sempre controlli giornalieri perché comunque ci guadagna tantissimi soldi, se entrassi in un portale del genere farebbe milioni e miliardi di danni. Eh sì, ma avere molti capi, molte persone che si possano interessare a questa cosa, soprattutto con tanti soldi da spendere per comprare una vera e propria azienda, non è molto facile perché non tutti si interessano a queste cose di social media, non riescono a vedere la loro grande potenza e importanza. Come dobbiamo pensare anche nelle aziende, troviamo social media quello che li controlla, che non è un giovane, soprattutto, a volte è un uomo abbastanza adattato, che non riesce a capire e comprendere cosa può andare in tendenza in questi anni. Però un fenomeno che ho notato di questo genere sono gli admin, ad esempio, delle pagine del calcio, che ora cominciano a mandare meme o comunque... Prima di le tank. Esatto, quei meme lì, o comunque meme, e cercano di fare pubblicità alla squadra. C'è esempio Dinamo Sassari, penso che conoscete tutti voi quella pagina. Quella è la mia solita reazione a un video di Dinamo Sassari. Più o meno la mia stessa. È combinato anche all'admin del Parma o del Napoli, creano questi video divertenti e riescono a attirare sempre più persone. È quello un po' l'obiettivo anche dei social media e di queste persone, attirare sempre più persone verso una cosa e raggiungere l'obiettivo, come nei negozi di comprare sempre più cose o nelle aziende di persone che si interessano a certi prodotti e riescono a vedere sempre più cose. Però devo dire che questa espansione continua dei social media porta molti problemi a tutti noi, dopo tutto quante ore passiamo davanti al telefono, davanti al Twitter, TikTok... Possiamo fare un esperimento. Aprite i vostri telefoni, dai su Forza e controllate quante ore ci siete. Allora, considera che... Non fai niente tutto il giorno? No, allora, stando sia al telefono, al computer e a televisione, io penso che in media tutti almeno otto ore le facciamo. Oggi a quanto siete? Tirate fuori. Tre ore. Non in quello. Tre ore e quarante e quattro. Due ore e mezzo, l'ho battuto. Oggi sono stato poco. Perché? Che hai dovuto fare? Niente. Che hai fatto con la tua ragazza? Dillo! Dovevo studiare, signorino. Ma vai, sì, va bene. Comunque, prima avevamo anche citato Elon Musk. Sì. Parlando di Twitter, avete sentito dei licenziamenti che ha fatto un po' di tempo fa, giusto? Non troppo, i licenziamenti di Musk. Qualcosa che comunque non erano molto... Spiegaci a te. Su questa cosa si può anche introdurre Andrew Tate, che ha dato un'opinione a riguardo. Bravo, bravo, bravo. Si fa un po' di correlamento, no? Che si voleva dire? Sì, che Andrew Tate poi aveva dato un'opinione riguardo a questi licenziamenti, che secondo lui sono più che giusti, perché dopo tutto avere comprato un'azienda come Twitter, molto grande, avere così tante persone che lavorano per Twitter, che non fanno altro che poltrire ogni giorno, perché il loro obiettivo è quello di trovare nuove feature e cose varie per il software, sicuramente è controproducente, perché è soltanto uno spreco di soldi, sono troppi dipendenti che vengono pagati per fare cose, per avere idee. Quindi è meglio dimezzare i dipendenti e avere qualcuno di effettivamente utile. E avere persone mirate per certi settori dei social media e occuparsi di essi, voleva fare, vuole comunque fare e portare avanti questa sua politica aziendale. E poi Elon Musk ha introdotto su Twitter il bollino del verificato blu a pagamento, cosa ne pensate? Bollino blu era una cosa esclusiva, di coloro che erano più famosi o avessero fatto qualcosa di importante durante la vita, che su alcune applicazioni lo puoi ottenere solamente pubblicando un libro, le più scuole di che ci sia, però ora è qualcosa che non è più... ha perso la sua esclusività. Sì, perché spesso vediamo persone che magari si meriterebbero comunque il verificato, ma non lo prendono, perché comunque ottengono magari una grande popolarità, però la piattaforma non accetta i propri contenuti proposti da questo profilo. È un fenomeno che secondo me del pagamento per essere verificato non è proprio corretto, perché porta quegli influencer che comunque lavorano sodo e hanno tantissimi follower a dover obbligatoriamente pagare per ottenere un vantaggio. Cos'altro potremmo introdurre? C'è l'algoritmo. Esatto. L'algoritmo. L'algoritmo di ognuno è molto diverso e quanto più distort possibile, che comprende cose che non si possono citare, ma è una cosa anche molto strana, perché a volte sembra che tu parli di qualcosa durante la tua giornata, poi apri il tuo cellulare, tipo su TikTok e te la trovi lì. È una cosa che a me mi ha sempre stranito. Sì, decisamente. E questo penso che sappiamo tutti la ragione, ovvero il fatto che noi quando accettiamo contratti per la telefonia e cose varie... Ci tengono controllati con l'algoritmo. È vero! Abbiamo riuscito un'opinione particolarmente forte dalla regia. Effettivamente è vero, c'è stato anche uno scandalo, noi sappiamo bene dell'America e la Cina su questa cosa. Ti hanno mai trovato qualche contenuto inappropriato sul tuo cellulare? Tipo John Cena, versione... No, però riguardo a questa cosa dell'algoritmo, effettivamente c'è stato uno scandalo tra la Cina e l'America, di cui sarebbe molto interessante parlare. Il problema è che l'America voleva cacciare, bannare. Possibile bandi TikTok. Esatto. Perché comunque TikTok utilizza un metodo per proporti ciò che potrebbe interessarti, che non è accetto dall'America, che pensava che avrebbero usato questo strumento per guadagnare informazioni sull'economia o sul mercato. Secondo me questo è un discorso che vai stesso ad altri campi, perché l'ostilità fra i due palesi è più che nota. Però comunque TikTok, sia essendo un'azienda cinese, no? Sì. Che vuole essere bannato proprio in America è perché pensano che ci spino attraverso questo. Esatto. È un pensiero un po' controverso degli americani, ma poi forse è un po' troppo loro. È un po' estremo. Poi è tanto estremo. Poi serando ciò, poi tutti i social media che usiamo, allora gli americani ci starebbero controllando. Cioè, ma Chris Quenberg è americano. Non avresti tutti i torti. Dopotutto, cosa succede noi quando accettiamo i contratti? I cookie servono a localizzazione, però tutti i contratti che accettiamo, alla fine qual è la valuta migliore che ci sia? Proprio la valuta assoluta. Le nostre informazioni. Le informazioni, i dati. E noi semplicemente quando facciamo contratti su siti e qualunque cosa vendiamo le nostre informazioni, quindi non c'è da stupirti se parlando di qualcosa mentre il telefono è in stand-by, per esempio parlando che voglio comprarmi una nuova lavatrice, non mi stupisco se vado sia su Facebook sia su Instagram e vedo su entrambi gli annunci di lavatrici, perché abbiamo venduto i nostri dati a entrambe le applicazioni. Esatto. Ora ho un dubbio. Te la sei comprata la lavatrice? E guarda, mi si era fulminata due mesi fa. Te l'hai presa fuoco poi a casa. Eh, no, quella era la stampante. Ah, ok. Ti sono appassi per caso video di lavatrici su come utilizzarle o qual è la migliore? Io ti dico che probabilmente parlando di questa adesso mi smonteranno un po' di annunci. Questo è importante. È la bellezza dell'algoritmo. Tutto dipende da quei like che mettiamo nei vari... Esatto, cioè, io ho fatto un esperimento una volta e ho cercato di mettere più like e comunque commenti su TikTok su un tipo... Stare al telefono non è un esperimento. Stai zitto. Su un tipo di contenuto specifico, lo sport. Il giorno dopo, casualmente, mi apparivano nove, dieci video di sport, di tutte le tipologie di sport. Però c'era sempre quel video diverso. Me lo ricordo sempre quel gattino che giocava con il gomitolo dopo la schiacciata di LeBron James. Quello è l'algoritmo che ci tenta, no? Vuol vedere se ti interessano ancora? Se gli metti il like magari te ne metti il like. E poi te la fai anche esplicitamente quella domanda. Ti è interessato questo video? Te clicchi sempre. Solamente no perché vuoi... O no. Sì, vabbè, i sondaggi su YouTube, su tutte le applicazioni. Comunque posso farmi una domanda. Dai. Tocca. Qual è, secondo voi, il futuro dei social media? Ma toccherà. Prima voglio sentire quella del Capitanini. Ma allora, signor dottore Federico Manaco e Lustre, il mio pensiero è che social media prenderanno sempre più mano nel tempo, nella nostra vita e tutti i giorni diventeranno sempre una cosa molto più utilizzata. Tanto con le nuove generazioni che verranno, quelle che ora sono gli anziani, gli anziani dei prossimi giorni saremo noi, già saremo istruite ai social media, forse non a quelli futuri che verranno, ma a utilizzarli, a essere consci di quello che potremmo fare e la loro potenza e forza potremmo utilizzarla a nostro favore. Io poi ne voglio anche approfittare collegandomi un po' al discorso per dare un messaggio che è particolarmente forte. Che messaggio? Che messaggio? Non fatevi mettere i piedi in testa, se avete la possibilità, da tutto, se hai la possibilità di cambiare qualcosa, smetti di fare il coglione, se hai la possibilità di poter cambiare, ma anche se non ne sei sicuro, proviamoci, non subiamo le cose. Se noi pensiamo che... No, non ha fatto ridere. No, 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 no. Allora. La regia è un po' squallida, molto squallida. Poi con questi suoni, eh? Vabbè, dai, continuo, c'è il tuo messaggio, tranquillo. Ormai penso che fosse sottinteso. La regia ha cercato di smontarlo. No, fai una frase effetto, un po' forte. Usa il diaframo. Cerca di dare un messaggio ai genitori, alle nostre generazioni. Volevo urlare un si va a letto, ma mi sa che tocca, senti la tua opinione. La mia opinione, prima di sperare altre stronzate, è che, secondo me, ci saranno due possibili sviluppi dei social media. Il primo è che i social media continueranno a evolversi nello stesso modo in cui hanno fatto in questi anni. Quindi ci sarà un nuovo Instagram, un nuovo TikTok, fino a quando saremo vecchi, fino a quando moriremo e così via. La seconda ipotesi è che i social moriranno perché la gente si interesserà a un'altra tipologia di intrattenimento o comunque cambierà qualcosa drasticamente nelle nostre vite che ci porterà a abbandonare i social media e probabilmente altre applicazioni o altri interessi. Moriranno o quanto? Quanto gli dai tempo di vita? Secondo me, se dovessero morire i social media, 20 anni o 30, sicuro riuscirebbero a rimanere. Forse anche di più. Quanto? Esatto. Secondo me è un po' di più. Un numero? Non ti voglio dire un secolo. Però non sappiamo davvero quello che succederà. Anche secondo me va verso questa ringezza. Secondo me è una possibile, cioè una cosa che potrebbe cambiare veramente nel futuro è che i social media non esisteranno più, ma esisterà un sistema virtuale, come vediamo spesso nei film futuristici, in cui tutto è collegato nello stesso istante, quindi un Google unico. Sì, ma è possibile. Ora vorrei chiamare tre ragazzi da regia a dire una frase, no una frase, una parola sopra i social media. E poi direi che possiamo chiudere. Una? Una. Una. Venite. Venite. Una. Il tuo pensiero. Una frase. Alberto, una frase. Una parola. Sento un po' un ospite speciale in questo podcast, che non è mio, però io utilizzo i social media penso 10 ore al giorno, anche perché non ho altro da fare, quindi secondo me sono essenziali per la vita di ogni giorno. Non resti studiare. Lo studio, finché ho i voti buoni senza studiare va bene così. E poi quando avrò bisogno di studiare mi metterò a studiare. Però in questo momento credo che senza social media non si possa vivere. No, io sono d'accordo con Alberto e ci tenevo innanzitutto a ringraziare i ragazzi che ci hanno fatto partecipare. E credo che i social media siano veramente importanti perché sono utilissimi e rappresentano una forma di intrattenimento per tutti noi giovani. E mi piacciono molto. L'unica cosa è che l'algoritmo secondo me è da rivedere perché ci spiano, ci spiano. Sono d'accordo. Ma facciamo parlare anche di questo. La vera domanda è, quando i tuoi voti cloneranno, cosa cazzo farai? Non penso che cazzo farai. Non penso che studierai. Starò sui social media comunque. Ma questo è un altro podcast. Dicci la tua opinione. Boh, io comunque sto anche io molto sui social. Penso che siano indispensabili anche per la comunicazione tra di noi. E quando prima o poi svaniranno, ci dobbiamo trovare altro da fare. Boh, io sono d'accordo. E condivido questo opinione. Alle battute finali di questa registrazione. Un applauso ai ragazzi che hanno spaccato di brutto. Bravissimi ragazzi. Ora direi che diamo appuntamento al prossimo episodio di questo podcast. Vi è piaciuto? E direi. Brava. Ciao Radio Sankara.